Ciao a tutti, benvenuti ad un nuovo video per imparare i significati divinatori degli arcani maggiori. In questo video andiamo a scoprire l'arcano numero 16, la torre. Il 16 simboleggia le difficoltà, i problemi, gli ostacoli che possono essere però anche benefici, quando portano ad un cambiamento in positivo. La sua riduzione, quindi 1 più 6, dà 7, numero perfetto, e questo rende il numero 16 particolarmente ambizioso ed orgoglioso. Ma attenzione però, perché la torre della carta rappresenta proprio la torre di Babele, costruita con l'ambizione esagerata di poter raggiungere il regno divino. Possiamo osservare come infatti il fulmine colpisce e distrugge la parte più alta della torre. Possiamo notare come due personaggi precipitano dalla torre, uno di essi è colpito da una pietra. Il messaggio della carta è alquanto chiaro. Costruiamo, alziamo le nostre torri, siamo pure ambiziosi, ma occhio a non strafare. Stiamo attenti e non esageriamo, soprattutto non lasciamoci trasportare da un'ambizione eccessiva, perché questo porterà al crollo sicuro tutto ciò che abbiamo progettato e costruito. Ecco il significato primario della carta, che ci mette in guardia dall'essere troppo arroganti, troppo ambiziosi. Stiamo attenti perché tutte le nostre certezze possono crollare in un attimo. Veniamo ora ai significati divinatori della carta al positivo. Più pesante capovolta che dritta, la torre ci mette in guardia e ci preannuncia un pericolo che non bisogna sottovalutare. L'arcano sembra mettere in guardia il consultante. Bisogna stare attenti e procedere con cautela, in quanto proseguendo con cociutaggine ed eccessivo orgoglio, il consultante sta rischiando di far precipitare completamente la situazione. Così proseguendo infatti, la caduta, sempre ammesso che non sia già venuta, è prossima. E se così fosse, al consultante non resta altro da fare che rialzarsi, rimboccarsi le maniche, fare tesoro di tutto quello che è successo e che lo ha portato a questo crollo, e quindi a proseguire poi il suo cammino, a patto ovviamente di aver imparato la lezione. La torre può indicare un cambiamento improvviso, drastico, che potrà anche essere doloroso, ma assolutamente necessario. Può segnalare che la situazione nella quale si trova il consultante è ormai arrivata al capolinea e bisogna trovare la forza di voltare pagina, di reagire e di andare avanti. In generale, quindi, la torre segnala eventi inattesi, improvvisi, che arrivano nella vita del consultante. Sul piano affettivo, segnala la necessità di fare chiarezza, di confrontarsi, di trovare insieme al partner una soluzione ai propri contrasti, onde evitare di andare incontro ad una rottura vera e propria. Ma se le carte vicine lo confermano, la torre annuncia che non c'è più niente da fare e il consultante farà bene a mettersi l'anima in pace, in quanto ormai il rapporto è giunto al termine e indietro non si torna. Può indicare in generale anche la necessità di mettere da parte il proprio orgoglio, la propria arroganza, che non fanno bene al rapporto di coppia. In definitiva, può indicare una rottura netta, ma che si rivelerà positiva in seguito per il consultante. Sul piano professionale, può indicare una sconfitta sul lavoro o il fallimento di una impresa vera e propria, ma dal quale il consultante potrà ripartire verso qualcosa di più positivo. Indica in generale cattive e inattese notizie. Così come può segnalare nel lavoro un impegno eccessivo e inutile che non porterà buoni risultati. Può inoltre segnalare un vero e proprio cambio di lavoro o anche di percorso di studi. Per quanto riguarda il tipo di persona, segnala una persona forte che può arrivare nella vita del consultante che ha un'importante novità. Belle o brutte saranno poi le carte vicino a dirlo. Passiamo ora ai significati divinatori della carta capovolta. Al negativo, purtroppo, la torre è tra le carte più terribili dell'intero mazzo di tarocchi. Se infatti al dritto la carta mette in guardia e avverte del pericolo che il consultante sta correndo, capovolta annuncia che ormai non c'è più nulla da fare e per il consultante si preannuncia un periodo molto pesante da affrontare. Così come le pietre della torre che vediamo qua crollare, anche le certezze del consultante vengono a mancare irrimediabilmente, segnalando quindi una rottura affettiva vera e propria, una chiusura ormai inevitabile. Cambiamento drastico di lavoro, licenziamento, bocciature, esami non superati. La torre al negativo può inoltre indicare un crollo vero e proprio sia fisico che mentale e inoltre cattive notizie in arrivo, problemi finanziari che al momento il consultante non può affrontare, nonché perdite finanziarie. Abbinata ad altri arcani pesanti può annunciare problemi legali, detenzione, un periodo in generale assolutamente nero per il consultante che non sa come muoversi e come uscirne. Sul piano affettivo segnala tradimenti, violenza sia fisica che mentale, una separazione inevitabile, nonché la fine di un rapporto di coppia, di un fidanzamento o di un matrimonio. Non c'è più nulla che il consultante possa fare per cercare di recuperare, non resta quindi che raccogliere i cocci, farsi forza e provare a voltare pagina. Segnala inoltre una rottura definitiva, un'amicizia che si rompe irrimediabilmente, contrasti e discussioni molto pesanti anche con amici e parenti. Sul piano professionale segnala la rottura improvvisa del rapporto di lavoro, quindi un licenziamento, esami non superati, bocciature. Segnala una grossa delusione in arrivo o nel migliore dei casi che il progetto che ha in mente il consultante è completamente fallimentare. Indica crisi finanziaria, perdita di denaro, cause perse, debiti e spese pesanti da affrontare. Per quanto riguarda il tipo di persona, la torre al negativo rappresenta una rivista, una persona arrogante e presuntuosa con la quale non si riesce a discutere civilmente, una persona vendicativa, scorretta, capace di arrecare grande danno al consultante. Per quanto riguarda i tempi di realizzazione di questo arcano, essi sono piuttosto rapidi. Si va dai pochi giorni a qualche settimana, ma con effetti che possono perdurare anche alcuni mesi. Anche per questo arcano dire che è tutto. Come al solito, se avete qualche domanda, curiosità o altro, potete scrivermi sotto nei commenti, oppure potete scrivermi via mail a ilcamminodelbagatto.it. Se volete potete raggiungermi anche sulla mia pagina Facebook Il Cammino del Bagatto. Vi lascio i link sotto in descrizione. Per ora è tutto, alla prossima, ciao!